Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Nel misterioso mondo delle dinamiche familiari emergono storie avvolte nell'oscurità, tra segreti nascosti e verità drammatiche. Jacob Stockdale nasce il 29 maggio 1992 e cresce nel villaggio di Bolivar in Ohio, dove vive con i suoi genitori, Tim e Katie, e con altri tre fratelli, Calvin, Charles e James. La famiglia Stockdale è molto religiosa e conservatrice. Tim e Katie si erano incontrati negli anni Ottanta, quando frequentavano l'università. Studiavano entrambi alla facoltà di Agraria ed erano subito entrati in sintonia. Tutti e due amavano molto la musica e soprattutto erano cresciuti con gli stessi valori. Nell'arco di dieci anni la coppia si era sposata e aveva messo al mondo quattro bambini, Calvin, che è il maggiore, poi Charles, Jacob e infine James. Inizialmente i coniugi non vivevano a Bolivar, che è una cittadina rurale piuttosto remota, ma abitavano in città. Tuttavia, verso la fine degli anni 90, Katie ha iniziato a preoccuparsi seriamente del quartiere dove risiedeva. Lì i giovani fumavano e bevevano ascoltando musica rap e avrebbero potuto influenzare i suoi figli con le loro cattive abitudini. Così Katie e Tim hanno deciso di trasferirsi. Nel 1999, quando Jacob aveva sette anni, si sono stabiliti in una piccola fattoria a conduzione familiare nel villaggio per l'appunto di Bolivar. Così si concretizza il sogno di Tim e Katie, che, avendo studiato agraria all'università, intendono vivere di ciò che coltivano. Dunque Tim lavora nella fattoria, mentre Katie si occupa della casa e istruisce i bambini. Si uniscono anche alla chiesa riformata di Sion perché entrano a contatto con una comunità di fedeli che condivide i loro stessi valori. Tutto sembra perfetto nella famiglia Stockdale, ma, ahimè, la realtà è ben lontana dall'utopia. Katie e Tim sono due genitori molto severi e ogni minimo dettaglio deve sottostare al loro controllo. Katie impone che tutto debba essere fatto come dice lei, qualunque cosa accada. Tanto per cominciare i bambini non vengono iscritti a scuola, Katie li istruisce personalmente a casa perché non vuole che i suoi figli siano esposti alle influenze negative del mondo esterno, quindi esige di determinare ciò che i suoi ragazzi devono apprendere. Loro, sempre nel mirino del suo sguardo vigile, questo mondo esterno o mondo moderno, non riescono davvero a scoprirlo, piuttosto vivono in una bolla ma dalle pareti rigide. Passano tutto il tempo alla fattoria ed è loro vietato anche di avere una televisione e una radio e di giocare ai videogiochi. Possono navigare in internet ma solo sotto stretta sorveglianza e per scopi didattici. Tim e Katie controllano scrupolosamente anche ciò che i bambini mangiano, possono nutrirsi solo dei prodotti che coltivano nella fattoria o che scambiano con altri agricoltori locali. Tutti i cibi processati e il cosiddetto cibo spazzatura sono banditi. Questi bambini non assaggiano mai dolcetti, non possono concedersi di gustare del cioccolato o dei gelati. Onestamente non sono contrari all'abitudine di mangiare sano ma ravviso un certo estremismo in queste proibizioni. Scoprire cosa mangia l'intera famiglia è possibile perché gli Stockdale hanno un sito web dove sono riportate queste informazioni e prevedono anche una sorta di menù fisso per ogni giorno della settimana. Per esempio il mercoledì a colazione mangiano frattaglia di pollo, a pranzo fegato fritto accompagnato da pane e burro, a cena salsicce fatte in casa con senape di crauti e barbabietole sott'aceto. Ma per questi ragazzini non solo la vita nella fattoria è sottoposta a un rigido controllo, infatti anche nelle rare occasioni in cui possono allontanarsi, i divieti li seguono come ombre. Al quattro fratelli non è permesso di socializzare con altri bambini, a meno che non sia Katie ad approvare le frequentazioni. Per lei vanno evitate le amicizie senza senso, quelle con i coetanei che potrebbero corrompere le menti salubri dei suoi figli. Inoltre non permette loro di praticare uno sport perché ritiene che la competizione incoraggi un aspetto troppo egocentrico del carattere. Come immaginerete un altro divieto riguarda gli appuntamenti. i figli di Katie devono concentrarsi sulla costruzione di solide basi per una vita scandita dai principi morali ed etici e le uscite con le ragazze non rientrano negli schemi. Katie afferma che gli adolescenti possono subire traumi emotivi o addirittura ammalarsi se fanno ruotare i loro interessi intorno all'amore. Dunque ai ragazzini verrà permesso di frequentare altre persone solo quando diventeranno abbastanza grandi e maturi per cercare una compagna di vita. Quindi questi sono i ritmi dell'esistenza che Jacob e i suoi fratelli devono condurre e la domanda sorge spontanea. Cosa fanno questi bambini nella fattoria oltre a studiare con la madre e fare i compiti? Ecco, nel tempo restante svolgono dei lavori manuali scanditi anche questi da una rigida organizzazione. Infatti ognuno di loro sa a quale mansione dedicarsi dall'alba fino al tramonto. Le giornate dei fratelli Stockdale sono piene di attività. Ogni minuto è minuziosamente pianificato. Devono falciare i campi, spazzare nei vari ambienti, sistemare l'attrezzatura agricola. È previsto anche che sventrino le galline per poi cibarsene con tutta la famiglia. E c'è uno stratagemma che Katie implementa per mantenere il controllo sui bambini e incentivarli a svolgere i lavori domestici o agricoli. Se lo fanno in modo volenteroso verranno premiati con un gettone. A questo punto possono scambiare i gettoni guadagnati per ottenere dei dolcetti, ma sempre piccoli, ad esempio una gomma da masticare, oppure per leggere un libro, per ascoltare un programma radiofonico o guardare un film. Tutto materiale che richiede sempre l'approvazione preventiva e accurata di Katie. Tuttavia non è affatto facile ottenere i crediti sufficienti per accedere a queste attività, perché, ad esempio, per ascoltare un programma radiofonico servono ben 100 gettoni. Insomma, per godersi una trasmissione, un piccolo piacere scontato quasi per tutti, quanto duramente devono lavorare questi bambini? Tra l'altro questo sistema dei gettoni viene usato anche per attuare le punizioni. Se i ragazzini fanno qualcosa di sbagliato vengono multati e gli vengono portati via dei gettoni. In che occasioni quindi? Beh, se non svolgono i compiti correttamente o se li svolgono con svogliatezza, se avanza del cibo nei loro piatti o se si siedono a tavola anche solo con un minuto di ritardo. Tutte le regole impartite da Katie che vi ho menzionato vengono approvate anche dal padre dei bambini, Tim, infatti i due genitori sono sulla stessa lunghezza d'onda. Tim però non è molto presente in casa, anche se lavora alla fattoria, perché è impegnato a tempo pieno, dato che deve guadagnare abbastanza da mantenere tutta la famiglia. Fortunatamente c'è un passatempo che Katie fa coltivare ai figli, ed è la musica. Tutti i bambini la amano e imparano a suonare diversi strumenti, specialmente Jacob, il più talentuoso tra i fratelli, anche se sono tutti bravi. Katie permette loro di dedicarsi a questa attività perché la considera produttiva, per imparare a suonare ci vuole impegno, quindi non è una perdita di tempo. La specialità di Jacob è il violino ed è talmente abile che a 13 anni già partecipa a delle competizioni importanti come il campionato giovanile dello Stato dell'Ohio e vince. Sono riuscita a trovare qualche clip su YouTube di Jacob che suona il violino, li ho guardate tutte e posso dire che è davvero molto capace. Il nucleo familiare forma ben presto anche un gruppo chiamato appunto la band della famiglia Stockdale. La band suona musica bluegrass, un genere che ha le sue radici nella musica tradizionale americana ed esegue le sue performance nelle chiese e durante i festival locali. E indovinate un po' chi è la manager del gruppo? Ovviamente Katie, visto che vuole tenere sempre sotto controllo i suoi figli. Anche in questo ambito Katie è estremamente severa, invece contro i ragazzi mentre si esercitano, programma sempre le prove per loro e quando si avvicina alla data di un concerto, attacca i testi delle loro canzoni ovunque in casa. Ad ogni modo i ragazzi amano la musica e il senso di libertà che questa offre loro, tracciando una via di fuga dalla fattoria che rompe la bolla e sbuca nel mondo esterno. Col passare degli anni la band diventa sempre più conosciuta e nel 2007, quando Jacob ha 15 anni, la famiglia viene coinvolta in un evento significativo. La redazione di un reality televisivo va a bussare alla loro porta, si tratta di Wife Swap, che in italiano corrisponde al scambio di moglie. Non so se conoscete il format di questo programma. In ogni puntata due donne scambiano i loro ruoli all'interno delle rispettive famiglie per un paio di settimane. Per realizzare lo scambio quindi le donne vivono nelle case delle altre famiglie e assumono il ruolo di mamme o responsabili delle attività domestiche. Durante la prima settimana aderiscono alle regole del nucleo in cui sono state trasferite e in questa occasione emergono drammi continui perché la nuova moglie è sempre in disaccordo sulle modalità di gestione della famiglia e di allevamento dei bambini. Durante la seconda settimana la nuova moglie sostituisce le vecchie regole implementando le proprie nella famiglia in cui è inserita. Anche in questo caso scoppia la tragedia perché i membri non vogliono rispettarle. Ad ogni modo entro le due settimane le due famiglie imparano qualcosa di nuovo l'una dall'altra. Il programma infatti si prefigge lo scopo di mettere in evidenza le differenze di stile di vita, valori familiari e abitudini tra le diverse famiglie coinvolte. Solitamente i partecipanti si candidano autonomamente ma i produttori dei reality stavolta cercano una famiglia con dei valori particolari, tradizionali e che magari suoni musica bluegrass. Qualcuno quindi ha raccomandato proprio gli Stockdale e loro sono apparsi come la famiglia perfetta per lo show. Quando i produttori contattano Katie per proporla di partecipare al reality lei risponde con un no secco ma poi i produttori le dicono che la pagheranno con un cachet di 20.000 dollari. Infine dopo qualche discussione la famiglia Stockdale acconsente a partecipare allo show, legge il contratto di 20 pagine e lo firma. Arriviamo così a luglio del 2007 quando iniziano le riprese e come detto Jacob ha 15 anni. Katie quindi fa le valigie pronta ad andare a vivere nell'Illinois con la famiglia Tonkovich per due settimane. La famiglia Tonkovich è composta da Lori e John e dai loro figli Paul di 20 anni e Megan di 17 ma in casa vivono anche i partner dei due ragazzi. La famiglia Tonkovich è completamente diversa dalla famiglia Stockdale. Prima di tutto abita in una città trafficata e ama fare festa e durante questi party, come prevedibile, si beve, si puma e ogni tanto si consumano anche rapporti intimi. La famiglia Tonkovich non ha una routine consolidata e Paul e Megan non devono sbrigare le faccende domestiche. In effetti la loro casa è piuttosto disordinata, i piatti da lavare si accumulano nel lavello e nessuno provvede. Stando alle regole, anzi alle non regole di Lori, i suoi figli possono fare ciò che vogliono a differenza dei fratelli Stockdale. Paul ad esempio vuole diventare un rapper e vi ricordo che Katie detesta la musica rap. Di certo i produttori del reality hanno scelto con cura questi concorrenti affinché fossero agli antipodi e si sfregano le mani pensando che la puntata sarà un gran successo. Di certo non è una sorpresa se vi dico che Katie appena entra in casa Tonkovich rimane inorridita dal loro stile di vita che considera totalmente sconclusionato. Come da programma le famiglie ospitanti forniscono alla nuova moglie un manuale che riepiloga tutte le regole casalinghe e il manuale della famiglia Stockdale diventa piuttosto famoso. È possibile tutt'oggi consultarlo online. Ovviamente contiene tutte le disposizioni di cui vi ho raccontato fino a ora, compreso il cibo da consumare ogni giorno, il sistema dei gettoni, i compiti che i ragazzi devono svolgere. Quando Lori lo legge rimane assolutamente scioccata, non riesce a credere che ai figli di Katie non sia permesso di socializzare e nemmeno di divertirsi. Ci resta davvero male quando scopre che i ragazzi non hanno amici, che non frequentano nessuno al di fuori della famiglia. D'altro canto anche Katie quando legge il manuale della famiglia Tonkovich rimane sbigottita. Quindi cosa succede nell'episodio dello show in cui partecipano le due famiglie? Beh, le nuove dinamiche familiari danno filo da torcere alle mogli scambiate. A Katie sembra di vivere in un incubo. I ragazzi organizzano una grande festa e Paul inizia a reppare. Inoltre usa un linguaggio alquanto colorito. Katie litiga parecchio con la famiglia Tonkovich. Durante la prima settimana di convivenza Katie sostiene che John sia un cattivo genitore perché cerca di essere un amico per i suoi figli. E discute anche con la fidanzata di Paul definendola una freerider perché non fa nulla per dare una mano in casa. Intanto in Ohio anche Lori non si diverte con la famiglia Stockdale. E' ancora incredula che i ragazzini debbano assolvere a così tante faccende. Non si capacita del fatto che non possano guardare la tv o giocare ai videogiochi. Inoltre Lori sostiene che il sistema dei gettoni eserciti una pressione enorme su di loro, arrecando frustrazione e tristezza. E ancora, com'è possibile che nemmeno i figli più grandi abbiano il permesso di uscire? Lori in più occasioni chiede spiegazioni a Tim, il quale si limita a rispondere che queste sono le regole della loro casa. Lori allora domanda a Charles che ha 16 anni se è interessato a uscire con qualcuno. E lui le risponde che vuole aspettare fino a quando sarà abbastanza grande per realizzarsi e creare una famiglia. Arriva poi la seconda settimana, in cui tutte le regole devono cambiare, quindi le nuove mogli stabiliscono le proprie norme domestiche. E Katie non aspettava altro. Vuole gestire la famiglia Tonkovich come fa con la propria famiglia. Si sbarazza della tv, fa sparire i videogiochi, fa svolgere ai ragazzi le faccine domestiche e impedisce loro di mangiare cibo spazzatura. In particolare, Paul deve scrivere dei testi rap adatti a tutti, privi di parolacce. Katie apporta anche dei drastici cambiamenti in merito a qualcosa che proprio non sopporta, ovvero che Paul e Megan vivano e condividano i letti con i rispettivi partner. Per istruirli sul pericolo delle gravidanze indesiderate, affida loro delle bambole che piangono e hanno bisogno di essere nutrite con la pappa. Inoltre introduce un prete in casa, dicendo che le due giovani coppie vogliono sposarsi. Ovviamente loro si rifiutano e allora Katie conclude che non possono più condividere le stanze. Allo stesso modo, Lori implementa tutte le sue regole nella famiglia Stockdale. Si procura una tv via cavo, permette i ragazzi di giocare ai videogiochi, riempie il freezer e il frigorifero con cibo processato, come la pizza. Sorprendentemente però tutti i ragazzi non reagiscono in modo positivo ai cambiamenti. Jacob, quando si rende conto che può giocare ai videogiochi, si mette a piangere e confessa alle telecamere che è terrorizzato da come i suoi genitori avrebbero reagito vedendolo davanti alla tv. È così preoccupato da temere che sarebbe andato all'inferno. Il cambiamento più significativo però avviene quando Lori decide che i due ragazzi più grandi sarebbero usciti insieme. Questo è un grosso problema, Tim è furioso, ma anche Calvin e Charles, i fratelli maggiori, iniziano a piangere perché sono davvero spaventati all'idea di andare fuori. Anche perché i genitori hanno sempre ripetuto che gli appuntamenti sono tanto pericolosi. Calvin e Charles quindi provano a opporsi, ma alla fine Lori ottiene ciò che vuole e i due ragazzi escono da soli. La loro uscita però va davvero bene, si divertono molto e dopo qualche giorno anche Jacob è di buon umore, afferma che adora i videogiochi. Ma quello che ora apprezza di più il cambio di regole è James, il fratello più piccolo, che si diverte davvero un mondo. I suoi 11 anni forse lo rendono più flessibile di fronte ai cambiamenti, in ogni caso riesce ad adattarsi meglio alle nuove regole introdotte in famiglia. Anche lui adora giocare ai videogiochi nonostante si senta molto in colpa nel farlo. Terminata questa seconda settimana lo show giunge al termine, questo vuol dire che Katie e Lori si incontrano. Il marito di quest'ultima John dice che Katie è estremamente critica, poi le due donne iniziano a litigare e Lori a un certo punto si precipita fuori dalla stanza. Questo episodio come detto viene girato nel 2007, ma non va in onda fino al 2008, quando suscita scalpore. Il pubblico critica aspramente la famiglia Stockdale, molti definiscono il modo con cui i coniugi crescono i loro figli ripugnante, sottolineando che Katie e Tim stanno a*****o dei ragazzi. Tuttavia anche la famiglia Tonkovic riceve critiche, infatti Lori e John vengono etichettati come genitori cattivi perché lasciano che i ragazzi facciano quello che vogliono. C'è però un'altra cosa che dovete sapere su Wife Swap, questo reality show, ovvero che non è reale, o quantomeno tutto è manipolato per rendere le puntate più interessanti. In primo luogo il manuale di cui vi ho parlato dovrebbe essere scritto dalle famiglie, ma in realtà è fornito dai produttori. Sono loro che incontrano i partecipanti, fanno loro alcune domande e in base alle risposte ridigono il manuale di famiglia. Dunque sì, il manuale è basato sullo stile di vita delle famiglie, ma è sicuramente scritto in modo drammatico, estremizzando i concetti e le regole. Poi alle persone coinvolte nello show vengono assegnati dei ruoli da interpretare, quindi loro non agiscono in modo spontaneo perché i produttori suggeriscono come comportarsi e, in alcuni casi, consegnano addirittura delle sceneggiature alle famiglie. I produttori riorganizzano anche la posizione dei mobili in casa, oppure ne comprano di nuovi e aggiungono altri oggetti di scena, tutto per far apparire la famiglia come loro desiderano e accrescere l'audience. Inoltre si fa credere che il programma venga girato in due settimane, mentre ne dura al massimo una, ma con riprese effettuate per ben 14 ore al giorno. Infatti, se c'è la necessità di firmare una scena notturna, vengono oscurate le finestre per ricreare l'effetto. Oppure si potenzia la scena diurna portando sul set degli enormi riflettori. Anche le ambientazioni e i dialoghi che sorreggono la seconda settimana, quella dove avviene il cambio delle regole domestiche, sono frutto di una sceneggiatura. Ad esempio, è stata un'idea dei produttori mostrare Katie che portava in casa Tonkovic un prete per far sposare le due coppie. Anche il montaggio è ampiamente manipolato per dare l'idea che i personaggi siano il più litigiosi possibili. Le scene non vengono montate in ordine cronologico e si inseriscono frasi equivoche fuori contesto per ricreare un clima dove fioccano le provocazioni. Se un partecipante allo show non dice niente di intrigante ai fini delle dinamiche televisive, vengono estrapolati dei frammenti di varie frasi e accorpati per generarne una nuova, distorcendo completamente il significato delle affermazioni. Infine, se un membro della famiglia non vuole assecondare la sceneggiatura, potrebbe incombere in una penale dal valore di 5 milioni dei dollari. Come saprete, ci sono molti esempi di programmi come questo che ingannano le percezioni del pubblico e che sono riusciti addirittura a rovinare la vita dei partecipanti. Basta fare una ricerca su Google per averne conferma. Leggerete di coppie che hanno divorziato, di gente che ha perso il lavoro a causa dell'immagine legata al personaggio che ha dovuto interpretare e di persone più fragili che si sono addirittura tolte la vita dopo lo show. Ho pensato fosse importante sottolineare questi retroscena perché le abitudini e le regole della famiglia Stockdale sono emerse soprattutto tramite il programma. Da spettatori ignari di tutto, guardando la puntata avreste potuto pensare che loro sono esattamente come appaiono nello schermo, ma non è così. Questo ci solleva una domanda. Quanto di quell'episodio è reale? Come conducono realmente la loro vita agli Stockdale? Quanto di quel manuale di famiglia viene seguito alla lettera? Vi dico chiaramente che tutto ciò che vi ho raccontato su questa famiglia si basa proprio su quel manuale che in molti considerano una fonte attendibile al 100%. Arriviamo quindi all'agosto del 2008, subito dopo la messa in onda dello show. Jacob ora ha 16 anni e alcune cose per lui e i suoi fratelli sono cambiate. I ragazzi ora possono giocare ai videogiochi come ricompensa per aver svolto bene le mansioni assegnate e viene loro permesso di usare internet un po' più liberamente. Inoltre i due fratelli più grandi frequentavano già il college quando è stato girato l'episodio di Wiveswap. Questo vuol dire che non erano assolutamente prigionieri nella fattoria. Un altro evento che si verifica dopo la messa in onda dell'episodio è che la band di famiglia già abbastanza conosciuta nella sua zona diventa piuttosto famosa così Katy decide di rinnovare e promuovere il sito web del gruppo musicale. In realtà ripubblica spesso e con orgoglio anche la puntata del reality show e il manuale annesso per incrementare la popolarità dei suoi figli artisti. Si vince quindi che non prende le distanze dal modo in cui la sua famiglia è stata dipinta dalla trasmissione. Per questo la mia domanda è se reality segue un copione già scritto ma Katy è fiera di quell'episodio allora stava davvero recitando una parte prestabilita e la sua famiglia? Oppure a Katy interessa solo usare la puntata per fare pubblicità alla band indipendentemente dall'immagine che se ne ricava? In ogni caso il gruppo musicale continua a suonare in giro e riscuote un certo successo e infatti Katy decide di creare un canale youtube dedicato che è ancora online. La band ha sempre più concerti in programma e Jacob è decisamente la star tra i fratelli perché come detto è molto talentuoso. Come immaginabile la vita dell'adolescente comincia a ruotare intorno a questo progetto. Il gruppo registra anche tre album, partecipa a diversi talent show e vince per poi girare in tutto l'Ohio diffondendo la propria musica. A questo punto dobbiamo fare un balzo in avanti lungo circa nove anni arrivando al 2017. Jacob ora ha 25 anni ed è l'unico dei quattro figli che vive ancora a casa dei genitori. I due fratelli più grandi sono andati all'università, si sono sposati e hanno già messo al mondo dei figli mentre James il più giovane a 21 anni esce con una ragazza e frequenta il college. Non è chiaro il motivo per cui Jacob non abbia proseguito gli studi come gli altri tre fratelli. A quanto pare è completamente dedito alla fattoria e all'agricoltura e parallelamente vuole portare avanti la sua carriera da artista. Tra l'altro insegna anche musica ai bambini delle città locali. I vicini e gli amici di famiglia affermano che ora Jacob può fare quello che vuole, non è più sotto il rigido controllo di sua madre. E la musica rappresenta ancora il territorio più scintillante del mondo di Jacob, anche se la band è diventata un duo composto soltanto da Jacob e James e per questo è stata rinominata The Stockdale Brothers. I due fratelli più grandi ormai sono troppo occupati per farne parte ma ai più piccoli non importa, sembra che loro vadano d'accordo e siano molto legati. James come accennato sta frequentando un college locale quindi torna a casa quando deve suonare ai concerti. È un ragazzo carismatico e solare, ha un ottimo senso dell'umorismo e ama far ridere la gente quando è sul palco, mentre Jacob è un tipo tranquillo e riservato. Arriviamo al 15 giugno 2017. Sono le 16.36 del pomeriggio quando il dipartimento di polizia della contea di Stark riceve una chiamata al 911. La gente che risponde sente il respiro dell'interlocutore e poi la chiamata viene bruscamente interrotta. La polizia, come da protocollo, deve rintracciare tutte le chiamate effettuate al 911 e il men che non si dica scopre che la telefonata proviene dalla fattoria della famiglia Stockdale. Gli agenti vanno lì per assicurarsi che sia a tutto posto ma quando arrivano alcuni vicini li informano di aver sentito dai 10 ai 12 spari provenire dalla fattoria. I poliziotti non si allarmano troppo dato il contesto ma si avvicinano ugualmente e sentono un altro sparo provenire dall'interno della casa. Quindi una volta chiamati i rinforzi la polizia entra nell'abitazione e si imbatte in una scena terrificante. Innanzitutto un giovane uomo è riverso accanto alla porta d'ingresso con un fucile al fianco. Quello è Jacob e sta sanguinando copiosamente. Ispezionando anche nelle altre stanze appare il corpo di un altro ragazzo disteso sul pavimento in una pozza di sangue e ferito dai colpi di un focile. Quello è James. Infine gli agenti salgono al piano di sopra e nel bagno individuano una donna anziana anche lei immersa in un lago di sangue. Katie. Dopo aver esaminato la scena del crimine emerge che Jacob Stockdale ha preso il fucile di famiglia e ha sparato a sua madre Katie e a suo fratello minore James. Ha poi chiamato il 911 ma senza dire nulla al telefono attendendo che gli agenti di polizia arrivassero alla proprietà. Prima che facessero irruzione in casa Jacob ha puntato il fucile verso se stesso sparandosi un colpo alla testa. Un colpo non letale però perché come scoprono i paramedici a corsi sul posto Jacob Stockdale è ancora vivo. Intanto il resto della famiglia viene informato di questo agghiacciante duplice omicidio. Tim il padre era via per lavoro quando è avvenuta la sparatoria. Lui e i suoi due figli più grandi sono devastati e non riescono a credere che sia successo davvero. Ma soprattutto si chiedono perché Jacob abbia fatto fuoco contro sua madre e suo fratello. Appena si diffonde la notizia tutti ne parlano. Tragedia per la famiglia Stockdale conosciuta per aver partecipato a Wiveswap. Durante la cerimonia commemorativa Katie e James ricevono la sepoltura tra le parole d'affetto dei presenti. La famiglia descrive Katie come una madre una figlia una sorella meravigliosa e James come un figlio un fratello e uno zio amorevole. Jacob nel frattempo è stato portato d'urgenza in ospedale. Ha subito un'importante lesione cerebrale che qualora sopravvivesse che cambierà completamente la vita. La comunità della chiesa frequentata dagli Stockdale crea un account su GoFoundMe allo scopo di raccogliere i fondi per sostenere le cure necessarie a Jacob e ottiene 32 mila dollari. Il ragazzo in effetti riesce a salvarsi e dopo quasi un anno in ospedale deve sottoporsi a diverse operazioni ma grazie alle cure ricevute ha potuto riprendersi. A causa delle ferite ha perso completamente la vista dall'occhio sinistro e ha sette frammenti di metallo depositati nel cervello oltre a molti segni di ferite visibili sul viso. Nell'ottobre del 2018, 14 mesi dopo la sparatoria, Jacob viene accusato degli omicidi di sua madre Katie e di suo fratello James. La polizia adesso può finalmente interrogarlo per ricostruire i fatti e le motivazioni dietro il suo gesto. Jacob però non dice una parola. Rimane completamente in silenzio. All'inizio del 2019 l'accusa lo porta a processo ma la difesa presenta una dichiarazione di non colpevolezza per infermità mentale. Si ritiene che Jacob non sia idoneo a sostenere un processo quindi viene trasferito in un ospedale psichiatrico per ricevere assistenza. Cerca però di scappare dall'istituto per due volte, fortunatamente senza successo. Dopo aver trascorso un anno nella struttura psichiatrica, nel marzo del 2020, Jacob viene ritenuto idoneo a sostenere il processo. Tuttavia, come di certo ricorderete, nel marzo del 2020 è iniziata la pandemia. Dunque il processo di Jacob Stockdale viene rimandato fino alla primavera del 2021. Nell'udienza preliminare Jacob si dichiara non colpevole, poi cambia versione una settimana prima dell'inizio del processo, che dunque non ha più luogo. La dichiarazione di colpevolezza di Jacob implica l'interruzione delle indagini. Questo vuol dire che non è mai stato individuato alcun commovente per i suoi crimini. Jacob Stockdale viene condannato a 15 anni di carcere per ciascun omicidio da scontare consecutivamente, quindi trascorrerà 30 anni in prigione. Questa sentenza è stata emessa nonostante le richieste di Tim affinché suo figlio ricevesse la pena più leggera possibile. Rimane ancora avvolto nel mistero il motivo per cui abbia ucciso la madre e il fratello. Non ci sono prove del fatto che Jacob soffrisse di un problema di salute mentale al momento degli omicidi. Anche se questo non esclude che ce l'avesse. A quanto pare non aveva avuto alcun litigio con Katie o con James e non aveva mai esibito comportamenti preoccupanti. Quando manca il movente, in un caso di omicidio si verificano sempre molte speculazioni e supposizioni. Poiché la famiglia Stockdale aveva partecipato a Wisewap, in tanti hanno visionato l'episodio del reality per individuare delle risposte. Qualcuno incolpa a Katie per il modo in cui ha cresciuto i suoi figli, per il suo severo esercizio di controllo su di loro, concludendo che un finale del genere era inevitabile. Come già vi ho detto, alcune dinamiche del programma corrispondono a delle messe in scena. Ma Katie era orgogliosa di quell'episodio, incoraggiava gli utenti a guardarlo e aveva pubblicato anche il manuale di famiglia sul sito web della band composta dai suoi figli. Questo mi porta a chiedermi quanto di quella puntata fosse reale. Amici e parenti intervengono per difendere Katie, sostenendo che è stata ritratta in un modo che non la rappresenta, visto che ha cresciuto i suoi figli in un ambiente amorevole e sicuro. Tutti coloro che conoscevano Jacob si dicono ancora scioccati dalla notizia. Ritengono che il ragazzo ha 25 anni, quindi all'età in cui ha compiuto il crimine, era davvero felice. Ormai aveva parecchia libertà e poteva fare quello che voleva della sua vita. Adorava insegnare musica così come dedicarsi all'agricoltura. Calvin e Charles, i due fratelli maggiori, sono rimasti atterriti dalla tragedia che ha strappato loro la madre e il fratello minore. James aveva solo 21 anni quando ha perso la vita. Ho visto tanti video della band e lui sul palco riusciva davvero a distinguersi, era sempre sorridente e così carismatico. Mi sembra un ragazzo che ama la vita, infatti aveva sempre voluto far ridere le persone, stava costruendo passo dopo passo il suo futuro. Aveva appena iniziato il college, stava uscendo con una ragazza e aveva un bel avvenire davanti a sé. In seguito Calvin dirà, James, il nostro fratello più giovane, è sempre stato un catalizzatore del divertimento per la famiglia. Era un musicista di talento, gli piaceva ballare e aveva un amore innato per le persone. Lascia dietro di sé molti amici e parenti che lo amano. Non so perché Jacob abbia fatto quello che ha fatto, ma io so che è mio fratello. Parlo a nome della nostra famiglia quando dico che lo amiamo e lo perdoniamo. Risulta quasi beffardo che Katie e Tim abbiano agito così duramente nel tentativo di crescere i loro ragazzi in un ambiente sano per poi ottenere come epilogo che un figlio trascorrerà buona parte della sua vita in prigione e per aver ucciso proprio due membri della sua stessa famiglia. Non credo potremmo mai conoscere tutta la storia con i suoi retroscena più oscuri. Jacob non ha mai rivelato nulla e penso che continuerà a non parlare. Ma voi, che idea vi siete fatti? Io onestamente non lo so e ho deciso di portare questo caso perché lo trovo interessante. Trovo interessante che l'episodio di un reality venga preso come fonte attendibile e probabilmente una parte di quel reality racconta anche la verità. Cioè probabilmente i ragazzi non avevano così accesso alla televisione, ai videogiochi, alla radio. Ci può stare che la situazione era questa insomma però sicuramente non erano reclusi ok nella nella fattoria. Di sicuro questo no. Secondo me potevano uscire, potevano frequentare altre persone anche quando erano minorenni secondo me. Ma questa è una mia opinione ovviamente. Chiaramente non possiamo sapere davvero quanta realtà c'è in quell'episodio. Non lo possiamo sapere quindi di conseguenza non possiamo neanche fare tutte queste ipotesi perché Jacob non ha mai dimostrato un comportamento strano particolare. Era semplicemente abbastanza riservato come ragazzo però non ha mai dimostrato comportamenti problematici. Quindi è un po' difficile da comprendere questo caso. Forse Jacob parlerà un giorno e quindi chiarirà a tutti che cos'è successo. Ma forse non parlerà mai. Quando ci sono questi casi senza muovente io rimango sempre diciamo molto interessata perché penso e continuo a pensare effettivamente cosa potrebbe aver portato a commettere un atto così atroce, così terribile, rifletto. E in questo caso dato che effettivamente non so quanto ci sia di vero non riesco neanche a fare delle supposizioni ok? Non riesco perché non so obiettivamente che problemi avesse Jacob. Non so se avesse dei problemi che in realtà magari non ha mai detto a nessuno. Purtroppo non lo so ma sono molto curiosa di sapere la vostra opinione. Quindi vi rifaccio la stessa domanda che vi ho fatto poco fa. Voi che idea vi siete fatti? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Come vi dico sempre ci becchiamo nei commenti. Fatemi sapere davvero quali sono le vostre opinioni. Sono curiosa di leggervi. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!